Io ti conosco anche se non ti ho visto mai Sei come nebbia, non ti toacco ma ci sei Eppure questa neosa non mi lascia mai L'odore caustico, i conati che mi dai La voglia carnale mi stringe e mi assale Come se fossi il male, un urlo primo reale La tua pigrizia, la tua malizia, la nullità che ormai ti sevizia Mi fanno barcollare ed io Ti seguirò, ti troverò E la tua testa stringerei I miei artigli affonderò E senza alcun rimorso Ti cancellerei Sui ormai di Dorian Dorian Gray Ruggesco contro vento e tremo sempre più Io sono il venitorian Dorian Gray Condanno l'animale che rifiutava parte di me Ti vedo arrancare Sei pronto a bruciare Ti sento rantolare Un urlo primordiale La tua pigrizia, la tua malizia, la nullità che ormai ti sevizia Mi fanno sanguinare ed io Ti seguirò, ti troverò E la tua testa stringerei I miei artigli affonderò E senza alcun rimorso Ti cancellerei Sui ormai di Dorian Dorian Gray Ruggesco contro vento e tremo sempre più Io sono il venitorian Dorian Gray Condanno l'animale che rifiuta ma parte di me Seguirò, ti troverò E la tua testa stringerei I miei artigli affonderò E senza alcun rimorso Ti cancellerei Dorian Dorian Gray Ruggesco contro vento e tremo sempre più Io sono il venitorian Dorian Gray Condanno l'animale che rifiuta ma parte di Dorian Dorian Gray Ruggesco contro vento e tremo sempre più Io sono il venitorian Dorian Gray Condanno l'animale per rifiuta ma parte di Dorian 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 Voi a sala Dorian Grazie a tutti i giorni Bravi Michele Simone Tutti gli intersidera Bravi 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 Grazie Michele Grazie Simone Grazie intersidera Noi ci vediamo Siamo serie Il 10 febbraio 11 10 febbraio Venerdì prossimo Asce il nuovo singolo Quindi mi raccomando Spotify YouTube ovunque Intersidera Siete grandissimi ragazzi Complimenti a tutti quanti Intersidera Bravi 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 Che dire Questa è la musica Viva l'arte Viva l'arte Viva il gioco Esatto 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 Ma anche della filosofia Vero Ci facevo Brava E tra poco dalla filosofia arriverà Emanuele Tardino Alessandro Picinotta Lo so dall'alto al basso Eh ma è così signori La vita è un po' una salita e una discesa Eh siamo serie Ovviamente è uscito ieri Tutte le migliori Uscite sui vari Le piattaforme A cura di Mario Testi I colleghi dell'ANSA After Sunday Charlotte Wells Film su movie Il pregio maggiore di questo film Che ha vinto decine di premi in tutto il mondo Dopo essere passato a Cannes E ad Alice nella città La festa del cinema E la graduale e inesorabile intensità Prodotta da accumulo e stratificazione Apparentemente accidentali Delle sue immagini gracili Ordinarie Spicsellate In parte registrate dai protagonisti Un giovane padre ed una figlia di 11 anni Con una videocamera amatoriale Che sono una sorta di diario Di una vacanza in Turchia di tanti anni prima Il finale Che conferisce all'intera storia Una curvatura drammatica e toccante Ci dà ragione di questa sensazione In sospensione per tutto il film E che affonda le sue radici Nell'autobiografia dell'autrice Una esordiente scozzese di 35 anni Con una passione per il mondo classico Che ha studiato a lungo a Roma Paul Mescal Cui Normal People aveva già dato Una grande notorietà internazionale E Frankie Collio Una ragazzina che ha spigliatezza Falcata e talento naturale da cucciolo In un hotel da pacchetto vacanze Tra gite in pullman Piscine e belvedere mediterranei Si cercano senza mai trovarsi fino in fondo Sospinti solo dalla certezza del sangue E la rassegnazione della loro solitudine Accontentandosi di scintille Di improvvisa sintonia e humor Cenni d'intesa Contatto o ricerca Con i quali entrambi Esplorano la segreta appartenenza Che lega un padre ad una figlia E viceversa In realtà After Sun È innanzitutto un film sulla memoria Sul tempo perduto Letto e riletto a distanza Le cui immagini Cerchiamo con rammarico di rivivere O sognare di cambiare È lei la camera che ci ripropone Volti e frammenti di vita Dal fondo del tempo Pixel di luce Flash di gesti e sguardi Che affondano Nel buio immenso Che ci circonda Eccoci tornati in diretta Dopo gli intersideri Gli intersideri L'avevamo promesso Emanuele Tardino Ciao Emanuele Eccoci qua Buonasera a tutti Ciao Francesca Ciao Francesco Stavolta ti ho salutato Perché ogni volta mi rimproveri L'altra volta non mi hai salutato Ci sono rimasta male Stavolta ti ho salutato anche per prima Allora la redazione di Pina Giordano E la regia di Lorenzo Rocchi Sono a lavoro in questo momento Per collegarsi su Skype Con Alessandro Cucinotta Alessandro Cucinotta Il conduttore Il conduttore Che purtroppo ci dicono Essere in macchina Noi abbiamo una regola ben precisa Se è quella che in macchina Non possiamo farlo Non si possono fare Quindi trova una collocazione Aspetteremo che Alessandro Trovi un altro Anche perché Sappiamo Ormai le coppie sono Francesco e Emanuele E io e Alessandro No? E si è giusto Ma come si è giusto? Ma che dice? No in realtà ne ho ascoltato bene Perché stavo pensando Che ormai possiamo fare direttamente Settimana entrando per Alessandro Non è che c'è la necessità E poverino se per strada Non bisogna mettere premura Perché può essere pericoloso Ah beh no Cioè è una legge Assolutamente 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 Allora io direi di capire È sceso dalla macchina? No Non è sceso Però è fermo? Lo possiamo vedere un secondo? Sì glielo diciamo un attimo Un attimo Che succede qualcosa insomma Devi scendere caro mio Purtroppo Ho capito Ho capito Sto scendendo Ma Alessandro Fermate Levate Non possiamo Non possiamo Grazie Lorenzo Trovo una collocazione Allora Emanuele Tu sarai settimana prossima Nella città dei fiori Non si sa perché Ma ci sarà Esattamente Esattamente Allora per quest'anno Si prevedono grandissime cose In primis perché È il primo anno in cui ci vado La cosa più importante Questa è come 104 volte palastri Sì che dopo arriverai Quindi saranno 105 Come seconda cosa Parliamo che è il primo anno di Sanremo Dopo la pandemia Quindi si prevedono Grandissimi ospiti Si prevede una grandissima affluenza Di turisti Di persone Insomma ci sarà tanto da vedere Ma soprattutto Tanto da ascoltare E da conoscere E anche da conoscere Sì Vai a trovare l'amore Oddio Francesco L'amore non lo posso trovare ovunque Vengo qui e trovo l'amore Vado a Sanremo e trovo l'amore Vado lì e trovo l'amore Prima o poi arriverà Dai non lo devo cercare io Arriverà da sé Certo certo Allora dovremmo avere Se non sbaglio Un cartello Esatto Delle grafiche Chiedo alla nostra Lorenzo è pronto Grandissima regia Allora io lascio la palla a te Lorenzo Mostraci le grafiche Mostraci il cartello Quello che vuoi Allora Categoria del vincitore di Sanremo Secondo alcuni studi L'uomo sarebbe al 60% La donna al 28% Il gruppo Al 12% Al 12% Grand Praticamente a me viene in mente Non so I cugini di campagna Bravissima Oppure Paola e Chiara Poi gli articolo 31 Imodà Imodà Ce ne sono tanti Secondo cartello Caro mio Lorenzo Rocchi Ecco lo share Della prima puntata di Sanremo Sarà calcolato Più o meno Un'ipotesi L'under 53 Al 45% Gli over 53% Al 55% L'under e l'over Ovviamente riguardante Lo share Come se fosse un betting calcistico Andiamo avanti Perché abbiamo altre stime Di testa a testa ovviamente No? Quindi Ultimo con Marco Mengoni Anna Ox e Paola e Chiara E andiamo avanti Insomma stiamo quasi a ritornare Questo è l'ultimo di cartello Vero Lorenzo? No ne abbiamo un altro Andiamo avanti Questo è l'ultimo però Allora vediamo che c'è Un'alta percentuale Di Marco Mengoni Secondo le stime Che Marco Mengoni Possa vincere il festival di Sanremo Poi abbiamo Giorgia Ultimo E iniziamo qui un po' a scendere Allora vediamo ad esempio Grandi nomi Allora ci sono state Delle grandi polemiche Anna Ox all'uno Io vorrei soffermarmi Francesco ed Emanuele Vorrei soffermarmi In particolar modo Sulla personalità di Rosa Chemical Perché abbiamo visto Che negli ultimi giorni Ci sono state Delle contrate Controversie Ci sono state Delle Insomma Vari dibattiti Polemiche Anche pesanti Anche pesanti Perché parliamo innanzitutto Di un tema molto 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 delicato Dove ci sono in gioco Dei sentimenti Delle persone Quindi bisogna stare attenti Ai termini che si usano E le cose che si dicono E sinceramente Parlando Ho letto alcune cose Che hanno detto Alcune persone Per di più Anche di spicco politico Che sono le persone Che dovrebbero dare esempio Criticare a livello pesante Questa partecipazione Di questo personaggio Al festival Ed è una cosa Sinceramente Non tanto gradita Ma non solo da me Ma a quanto pare Comunque Non ha riscosso Delle belle cose E quindi tu Il vincitore qui Che è messo a Marco Mengoni Al 20 Ultimo al 16 È un testa a testa Cioè solo loro due Sarà per la vittoria Assolutamente no Francesco Qua parliamo Di statistiche Provvisorie Ovviamente Prima dell'esibizione Ma il festival di Sanremo Cambia già dalla prima esibizione Sì Può cambiare la qualsiasi In un secondo solo Qua parliamo solamente Di numeri E di pronostici Eventuali Del festival Ma poi Tutto può cambiare In un secondo Noi lo analizzeremo Con tu che sarai collegato Setti venerdì prossimo Dal festival Io immagino Che faremo dei collegamenti Anche negli altri giorni Emanuele Perché poi ci racconterà Il festival Con piacere Sei emozionato? Perché poi con te Scherziamo e ridiamo sempre Allora Torniamo anche un po' a sempre C'è l'emozione Guarda l'emozione c'è Anche perché Come ti ripeto È il primo anno In cui vado L'ho sempre visto Diciamo è un evento Che ho sempre visto In diretta da casa Dalla tv E comunque Come ogni evento Che si rispetti Sai vederlo dal vivo Sono sicuro che sarà Tutta un'altra emozione Tutta un'altra cosa Molto bene Ora lasciando stare Chi vince Chi perde La polemica Anche legata a Zaneschi Quando arriverà anche Alessandro In collegamento con noi Ne parleremo Ce l'abbiamo Alessandro? Abbiamo? Ah eccolo Alessandro Buon pomeriggio Benvenuto Ciao Alessandro Buon pomeriggio Buon pomeriggio Ragazzi Perdonatemi Ma son dovuto uscire Per un'urgenza Familiare Quindi insomma Catania dovete capire Che in questi giorni Ed Emanuele lo sa E' un tributio Di folclore Di tradizione Di religione Perché Tutto la fada padrona E' la festa di Sant'Agata La festa di Sant'Agata E' la padrona di Catania Ha ragione Credetemi C'è C'è Veramente Tanto C'è capovonto C'è per il frattempo Alessandro Eccolo qua Ora è messo bene Ora è messo bene Allora Vorrei che però Alessandro Ci raccontasse anche Cosa ne pensa Delle polemiche Legate Alessandro Non ce lo può Ora c'è Le polemiche legate Al videomessaggio Di Zelensky Al festival Durante la serata finale Allora guarda Trovo Che è un tema Delicato Tanto quanto Quello Della Deputata La Camera Che ha detto Il problema di collegamento Evidente anche Con la festa C'è molta gente Che sta filmando Sta facendo E quindi Sì In questo periodo A Catania non si ragiona C'è veramente Il È bello Però è la tradizione italiana È meravigliosa È molto bella Specialmente Diciamo la nostra siciliana Noi siamo molto Folcloristici Siamo molto Soprattutto radicati A queste tradizioni Antiche Quindi Ti invito ad andarci Qualche anno Se hai la possibilità Vaci Però non con la macchina Te lo sconsiglio Perché Resteresti bloccato Nel traffico Fidati A piedi Ti fai una passeggiatina Perché è gilontano Ti fai una passeggiatina Dai bello Bello Un giorno mi porti Magari anche a mangiare Un buon arancino 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 E andiamo a vedere Anche al Massimino Il Catania Visto che ci stiamo Dai andiamo al Massimino A vedere Allora Avevamo parlato prima Appunto Delle polemiche Che sono state alzate Da Morgante Di Fratelli d'Italia Appunto su Rosa Chemical Noi abbiamo un video Io direi di ascoltare Un attimo le sue parole Perché sono state Molto criticate Anche giustamente Quindi andiamo a sentire Le sue parole E poi le commentiamo insieme Onorevoli colleghe Onorevoli colleghi Desta sconcerto La notizia Riportata da alcuni organi Di stampa Che Manuel Franco Rocati In arte Rosa Chemical In gara La prossima edizione Del festival di Sanremo Porterà Come da lui stesso Affermato E chiedo scusa Sinora nel termine Che per Che utilizzerò Il sesso L'amore poligamo E porno Su Olli Fans La rivoluzione fluida Era già da tempo Al teatro Ariston Ma trasformare Il festival di Sanremo Un appuntamento Che ogni anno Tiene incollato Lo schermo Famiglie e bambini Emblema Della tribù Tradizionale Convenzionale Nell'appuntamento Più gender fluid Di sempre È del tutto Inopportuno Nonostante viviamo Nell'era Dei social network La televisione Rimane il principale Canale di informazioni Per i cittadini E i maggiori Fruitori Del mezzo televisivo Rimangono i minori E le famiglie Che diventano La fascia Di riferimento Principale Per la creazione Di programmi Il festival Della canzone Rischia di diventare L'ennesimo spot In favore del gender E della sessualità Fluida Temi sensibilissimi E che da sempre Fratelli d'Italia Contrasta È inaccettabile Che tutto questo Possa avvenire Non soltanto Sulla tv di stato Che troppo spesso Dimentica Il suo ruolo Di pubblico servizio Non soltanto Con i soldi Dei contribuenti Ma soprattutto Di fronte Ai tantissimi bambini Che guarderanno La televisione Per una serata Di famiglia È innegabile Presidente Che la rassegna Canola più importante Del nostro paese Sia un enorme Importantissimo Veicolo culturale Ma anche politico E sociale E come lo stesso Mondo della musica Sia un palcoscenico Per raccontare E descrivere La società E le sue dinamiche Attuali Questo suo ruolo Però E mi dispiace Davvero dirlo Ormai da tempo E soprattutto In queste ultime edizioni Si è trasformato In una vera Propia propaganda Senso unico Un vero Condensato Della peggiore Ideologia Che mina E che vuole minare L'identità Dell'uomo E della donna E alla dissacrazione In modo del tutto Rispettoso Dei più importanti Simboli religiosi Questo per noi Per quanto ci riguarda Non è accettabile Auscupiamo pertanto Signor Presidente Che ci sia Un ripensamento A riguardo Grazie Presidente La peggior ideologia Rappresentata Sul Festival di Sanremo E hanno addirittura Chiesto Che venga Insomma Che non si esibisca Allora Alessandro Vengo da te Parla di tematiche Insomma Di cui la nostra vita I social sono pieni Anche i giornali Sono pieni Ora Siccome è Sanremo Forse si monta Anche Un po' di polemica In più Perché è il Festival di Sanremo È un'attenzione particolare Hanno detto È inaccettabile Anche per i nostri bambini Diseducativo Ma Allora Qui guardate Allora Poi uno magari Giustamente Si gioca Si scherza Si parla di tanto E tanto Però La cosa importante Da capire È che ormai Viviamo un'epoca In cui Non Si può più Diciamo Parare con tutta questa leggerezza Di queste tematiche Non si può più Secondo me Andare poi a Scavare molto In contesti dove Secondo me Ecco In quel contesto lì Ovviamente Della signora Che abbiamo appena visto Della politica Che abbiamo appena visto Trovo che stia Strumentalizzare Il contesto Di Sanremo E Credo Credo Però magari Questo può essere Un mio pensiero Personale Credo che ci siano cose Ben più importanti E veramente Importanti Significa di famiglie Che devono andare avanti Di comunque Una situazione Del nostro paese Che non è mica una situazione Delle migliori Quindi Quindi Questo per dire cosa Per dire che Secondo me Quella tematica lì In questo contesto Di Sanremo Portata in un contesto Del nostro Parlamento Di Sanremo Tutto quell'ambiente politico Secondo me Ci sono situazioni Molto più importanti Del chissà Cosa pensano i bambini Anche perché Anche perché In un'epoca ormai Quella che viviamo In 2023 Siamo ormai abituati A vedere tutto quello Che ormai è diventato Fuori dai tabù Quindi La nostra società è fluida Se così possiamo dire Alessandro Innegarie Sì Ma Assolutamente Ora poi magari Ecco Trovo in maniera Molto divertente Il fatto che Ci sia Chi le lauro Piuttosto che il limitatore Di Achille Lauro Francesco Cicchella Che ci gioca su Quando dice ormai Ancora tutti A parlare con questo Uomo Donna E binario Eccetera eccetera Poi ognuno Del proprio Del proprio Io Del proprio sentirsi Ok Si sente come Meglio vuol sentirsi Fin quando ovviamente Io dico sempre La mia libertà Non deve invadere Diciamo la libertà Altrui Quindi Ognuno è libero Di fare quello Che vuole Però è anche Una scelta fatta E studiata Da Amadeus Quindi non è Che è stato Messo lì a casa Non è casuale La canzone È stata ascoltata E l'ascoltata E bagliata E non solo Da Amadeus Ma lì Ma lì ovviamente Voi sapete Meglio di me Che la scelta Anche del direttore Artistico È quella Di mettere Alla luce Un po' Quello che sono Anche le problematiche Comuni Quotidiane Perché quotidianamente Miniamo invasi Da tutti questi Messaggi Uomo Donna Gender Fluid Omosessualità LGBT Insomma Tutto questo Che c'è Che ormai Oggi È Grazie a Dio È normale Parlarne Perché Perché Non perché Uno può essere A favore O non a favore Ma il fatto Che bisogna Essere tranquilli Cioè bisogna Parlarne tranquillamente Perché in tempi passati Molte cose brutte Sono accadute A chi comunque Voleva esprimere Quello che era Il proprio Sentirsi Diciamo Liberi con se stessi Può tornare anche la censura Se vogliamo Emanuele Questa è una sorta di censura Beh guarda Francesco Stando a quello Che ha detto La politica Del partito Forza Italia A me ricorda molto Una nota Dittatoriale Mi sa Tanto di dittatura Che a prescindere Eh questo è forte Mi devo dissociare Da questa cosa Francesco Guarda Anche le parole Che ha detto La signora Non sono parole Di poco conto Ma è esposto Comunque al Parlamento Italiano La sua Ha detto Queste persone Sono un agglomerato Di cose cattive Di cose brutte Che minano L'essere umano Insomma Non parliamo Non sono parole Così leggeri Non siamo abituati Però a vedere Al festival di Sanremo Canzoni che vanno in voga Perché le canzoni Che vanno in voga Alessandro Sono queste poi Diciamoci la verità È solo che il festival Non è abituato Ma sì D'altronde Ragazzi Ricordiamoci Che tanti e tanti E tanti anni fa Anche Gianni Morandi Little Tony Fecero Scalpore con le loro canzoni Quindi è comunque Un cambio generazionale E oggi ne parlavo giusto Con un collega Che mi ha detto Proprio testuali parole Eh ma c'è Hanno riesumato Tanti nomi Che avevo quasi Dimenticato Allora che io ho detto Scusa Ma ci sta un cambio generazionale Quindi ci sta Ovviamente la splendida voce Di Giorgia Di Anna Oxa E insomma Di tutta questa Tutti queste artiste Che magari Non vedevamo più Da un po' di tempo E ovviamente Anche artisti nuovi Come LDA Eccetera eccetera Cosa chemical Eccetera Quindi ci sta Anche un cambio generazionale E però anche Che Giovanotti Ricordiamoci Che quando Quando uscì Tanti anni fa Era ovviamente Rivoluzionario Oggi Giovanotti È ovviamente Un artista affermato Quindi Secondo me Ci sta anche Poi può Può piacermi Può non piacermi Però insomma La critica è bella Sta anche lì La critica Il gioco della critica Mi piace Non mi piace Guarda Questo genere no Chissà cosa farà Insomma Il pubblico Deve comunque Prendere e tifare Insomma Prendere parte E tifare per qualcuno Ecco io Diciamo La vedo così La vedo un po' più Da una visione diversa Quindi più libera Ecco È giusto così Guarda Io mi ricollego Alla parola che ha detto Alessandro Che è una parola giusta La critica Il festival di Sanremo Deve criticare Semmai L'aspetto artistico Del personaggio Non la sessualità Nel privato Perché come diceva Anche Alessandro Ognuno nel privato Può essere ciò che vuole Può sentirsi ciò che vuole Ciò non deve minare La parte artistica Questa è la differenza E non si può escludere Una persona Solamente perché si sente Donno Perché si sente uomo Perché noi non stiamo Che a giudicare questo L'importante è che la cosa Ovviamente sia fatta Con dignità Ma a prescindere Ma a prescindere Dalla sessualità È chiaro anche Che sono due etero Non è che sono liberi Di sbagiucchiarsi Ovunque vogliano In qualsiasi contesto Sessuale parliamo Ci vuole comunque Un certo decoro Un certo Certo C'è anche il che esistono Negli altri sceni In luogo pubblico Non per caso Esatto A prescindere Dalla sessualità Non per caso Allora Usciamo da questo argomento Sempre manteniamo Il focus aperto Ovviamente Il film rouge Di Sanremo Seguiamo il film rouge Legato a Sanremo Siamo a pochissimi giorni Inizio al festival Tu quando parti? Io partirò Settimana entrando Giovedì mattina Quindi ti vedi proprio Il top Del top Sì sì Da giovedì Fino poi Per fare rientro Giorno 12 Quindi domenica 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 Sì Proprio sarà una cosa pazzesca Sì ma ti terrò aggiornato Non ti preoccupare Ci terrai aggiornato Di terrò aggiornati E poi ovviamente ci colleghiamo con Emanuele Allora Troppe pole Allora Generalmente le polemiche Legate al festival Emanuele Le sentivamo Da mesi e mesi e mesi e mesi prima Qui non c'è stata nessuna polemica Le ultime polemiche sono arrivate solamente negli ultimi giorni Praticamente E questo potrebbe essere anche un gioco mediatico ovviamente che fa Fa caso ovviamente di chi trasmette il festival del festival e tutto quanto Perché è il gioco delle parti E anche le parti del festival Già esatto E quindi già questo è un sintomo del fatto che il festival sta funzionando secondo me Altro che Altro che Poi ovviamente sai Non dimentichiamoci l'aspetto importante che in ogni cosa c'è l'evoluzione Anche nel marketing Che questo qua sarà sicuramente frutto del marketing Si evolve in base alle esigenze del mercato Che ogni anno presenta Ma le critiche Sotto tanti punti di vista Ho visto che proprio negli ultimi giorni Freschissime Stanno nascendo critiche Una presso all'altra Per esempio oggi leggevo l'ultima Addirittura anche sull'allestimento che Amedeus ha fatto fare all'interno di Sanremo Perché io ho visto qualche fotografia E devo dire che a me piace tantissimo Perché hanno fatto una sorta di cupola In mezzo che sarà super illuminata Fatta particolare Alcuni critici hanno detto Che ha copiato il vecchio Sanremo Di tanti anni fa Quando c'era Pippo Baudo Perché se ne parli a questo punto Perché se ne parli Però ci attacchiamo a queste cose qui Sto leggendo veramente della qualsiasi in questi giorni Alessandro Alessandro Squati la testa Dai Poi esagerà Sì ma sì ma anche perché non dimentichiamoci di quando fece il festival Paolo Bonolis Quando ovviamente riempì il palco di tutti i fiori Ovviamente perché allora c'era la città dei fiori No? Quindi fu diciamo proprio surclassato dalle polemiche Dalle critiche Diciamo che non c'è Sanremo senza polemiche È capito È spettacolo Comunque sia Purché se ne parli perché alla fin fine Deve essere uno spettacolo tutto Capito? È quello Eh sì siamo d'accordo Deve essere uno spettacolo Allora tu non andrai a Sanremo però Alessandro Purtroppo no Non posso recarmi in quel di Sanremo Però sarò in collegamento Seguirò vivamente tutto quello che accadrà E che gravita attorno a Sanremo E a tutto quello ovviamente che poi concerne la serie di collegamenti Quindi ecco vivrò In maniera seppur remota ma lo vivrò Ti abbiamo fatto prendere anche un po' di freddo Grazie Alessandro Grazie mille Ciao Ale Grazie a voi Ciao Buona serata Ciao Alessandro Buona serata Buona serata Buona serata A te a tutti E grazie Ciao Alessandro Emanuele allora negli ultimi due minuti Ci devi raccontare com'è la valigia di uno che sta per partire per Sanremo Che ti porti? Ma guarda in realtà non sto portando dei valigioni Delle cose enormi Sto portando l'essenziale Già ho fatto il quadretto Quello che metterò la seconda sera Ogni giorno Andrei proprio all'interno dell'Arison Allora me lo auguro Questo me lo auguro Perché la possibilità c'è Però ancora sai Credimi quest'anno c'è il caos Ancora non si sa Tu figuri che tanti giornalisti addetti proprio all'aria Ancora non sanno Ancora non sanno dove mettersi a fare le interviste Non sanno tante cose Quindi ancora è tutta un'incognita Io mi auguro di andarci Perché sarebbe veramente Una bellissima esperienza Poi ti ripeto Quest'anno c'è il mio cantante preferito Mister Rain E quindi magari fare da talismano Sentirlo dal vivo Mi piacerebbe veramente un sacco Mi piacerebbe tanto Dai Però lo incontrai sicuramente Perché poi lì si gira Sì Sicuramente sì L'incontrai abiti eleganti Questo non te lo dico Questo Va bene Qui lascio i punti di trovare Ce lo farai vedere in collegamento Ovviamente Grazie mille Emanuele Grazie a voi come sempre ragazzi Ci mancherai Sentirla prossima Perché è sempre bello Andare a su Perché porta sempre un sorriso Porta sempre un buon Ma va Ci vediamo allo stesso video di Amata E della stessa cosa Grazie mille Emanuele Grazie a voi Ciao a tutti Noi ci fermiamo un attimo E tra poco torneremo con lei La più bella La meravigliosa palastra Rimanete qui A tra poco Grazie a tutti